Chiamai il 911, ti ha la polizia di fare presto, un uomo sta per essere ucciso. Ho capito, va bene. Allora prega che non lo scoprano. Ulrich Follnick-Denstein non è quello che vuole sembrare. Vogliono arrestarti una dozzina di guardie reali. Io ti amo, fuggi, fuggirò con te. Figlio zampo gnaro! Dimmi papà, veloce. Riesci a capirci qualcosa tu? Adesso papà? No, perché mi sono scaricata a Gesù di Nazareth e mi sta prendendo tantissimo. Il film è disegnato. Con piccoli perfetti denti bianchi e un alito che profuma di menta. E gli unici peli che ha su tutto il corpo sono quelli sulla testa. Maledizione! Lo sai dove te lo infilo questo, vero? Non l'hai mai chiesta? Una cosa per favore? Per favore, figlio di puttana! Perché abbiamo sangue? Riportando a te schiere di anime perse. In nomine Patris. E' finito. E' spirito santi. Quando mi guardate, che cosa vedete? Una persona che fatica a sopravvivere? Oppure vedete un uomo che ha superato ogni ostacolo? Come a try for a different life? A new day has begun Grazie a tutti